I balordi delinquenti che cercano di venire qua a 35 euro al giorno, colazione, pranzo e cena, che finiscono peraltro nelle casse cooperative, servono solo le manette. Manetta, 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 manetta a questi balordi e aereo per riportare a casa loro. Questo lo devono stabilire i magistrati, scusi, d'arte, scusi, d'arte, c'è la gente che ti viene a chiedere, ma secondo lei, giate il processo e facciate i balordi che fanno una cosa del genere. Nei regimi la politica può indicare chi deve essere o no manettato. Nelle democrazie dove i poteri sono definiti ci sono i processi dove si verificano i reati e quindi secondo lei i due tizi che sono stati protagonisti dell'ammutinamento dobbiamo anche fare un processo e quindi dargli anche l'avvocato a gratis che paghiamo noi. Guardi, è un diritto, non sia ridicolo, non sia ridicolo, perché qua parliamo non di vitalizi, ma lei vorrebbe essere giudicato senza un processo?